La prima giornata dei campionati delle giovani fasciste sulle nevi di Dobbiaco. La pistoiese Vittoria Ferrari primeggia nella gara di discesa libera su due centurie di gareggianti. La prima giornata dei campionati delle giovani fasciste sulle nevi di Dobbiaco. La prima giornata dei campionati delle giovani fasciste sulle nevi di Dobbiaco.